Ciao leggine, ciao leggini, buongiorno e benvenuti a un nuovo video tutorial. Oggi conosciamo delle bellissime carte, che sono le carte stellari. Sono carte di guarigione. Spesso abbiamo parlato, anche nell'ultimo video di domande e risposte del mese di aprile, abbiamo parlato se fare letture sulla guarigione, eccetera. Queste carte sono un po' specifiche per la guarigione. Quindi ora le andiamo a vedere insieme. Sono composte da una scatolina, proprio semplice, delle carte. Questi sono 44. E poi c'è un mini foglio di accompagno, che però spiega tutto quanto. E quindi dice, mischiare le carte, aprirle a ventaglio, ora facciamo tutto, sceglierne una e focalizzarsi su di essa tranquillamente, attraverso il numero, connettersi alle costellazioni e ripetere le affermazioni, eseguire l'esercizio alcune volte durante il giorno. Più spesso ci si focalizza sull'immagine, più diventa facile creare un legame con la costellazione. Auguri per una vita felice e eterna. Allora, piccola premessa. Questo signore, grandissimo signore, che è Grigory Grabboy, lui lavora con le sequenze numeriche. Noi abbiamo conosciuto, scusate, in tutto ciò c'è Ziggy, che ha deciso di mangiarsi, parte del filo del mio computer. E quindi lui lavora con le sequenze numeriche. E ha creato queste carte, appunto, di guarigione, che portano delle sequenze numeriche e una costellazione, e un'affermazione positiva. Secondo, appunto, i suoi studi, le sequenze numeriche aiutano e riprogrammano, e guariscono. Quindi andiamo a vederle. Allora, ve le posso far vedere, però comunque poi ne andiamo a pescare una. Per esempio, vedete, sono tutte molto simili. Sono costellazioni la libra, il leone, per dire, questo è, serpente, ok, l'orsa minore, la libra, la lince, pegaso, scorpio, scorpione, il cigno, l'acquario, insomma ci sono un po' tutte. E poi qui che ci sta l'orologio, il pavone e l'ariete. Chiudiamo in bellezza. A questo punto, ne mescoliamo e seguiamo il procedimento per il funzionamento di queste carte di guarigione. Mischiamo le carte, le apriamo a ventaglio, ok. Scegliere solo una, facciamo questa, e focalizzarsi su di essa tranquillamente, quindi focalizziamoci anche voi alla bilancia. Quindi sono contemplative, meditative, quindi le osserviamo. Poi, attraverso il numero, connettersi alla costellazione. Quindi il numero è 5, 9, 8, 6, 1, 7, 21, 9, 6, 8. Quindi si può ripetere questo numero, lasciarlo fluttuare in noi, e poi guardare la costellazione e soffermarsi anche sulla affermazione positiva. Non do appeso né all'uno né all'altro, percepisco solo l'amore. Quindi vedete la costellazione della bilancia che ci fa mettere in equilibrio. Non do appeso né all'uno né all'altro, percepisco solo l'amore. Come potete usarle? Io ho pensato di fare così, me le metto in qualche posto dove la posso vedere così, ogni volta che ci passo davanti ripeto la sequenza numerica e poi ripeto l'affermazione. Le metto in bella vista in giro per casa. Se volete potete usare anche voi questo metodo. e lasciarle fluire. Sono carte appunto di guarigione verso la vita eterna, perché appunto in questi studi di questo studioso russo ci sta questa spiegazione verso la vita eterna, quindi molto interessante. E queste carte aiutano appunto nella guarigione. Fammi sapere se le conoscevi, se ti piacciono, se le hai usate, insomma che cosa ne pensi? Aspettate i commenti e se il video ti è piaciuto regalaci un like. E se no, e se non sei iscritto, no e se no, il video sicuro, dai ti è piaciuto. Se non sei iscritto al canale YouTube delle Legge della Magia, fallo subito. Ciao da me e da Ziki. Ziki dai saluta! Ciao!